il video di oggi è un altro video di analisi comandante in cui andremo a osservare nello specifico aldir e tutte le build possibili che sono legate a questo comandante ma prima vi ricordo che nella descrizione del video sono presenti tutti i link possibili per accedere alle pagine ufficiali del gioco quindi il link per la pagina facebook per il server discord nel quale vengono pubblicati non giornalmente ma tutte quelle notizie che sono importanti per il gioco quindi gli aggiornamenti le patch note e gli eventi che gli sviluppatori pensano per il gioco e anche la pagina internet al gioco legata andiamo quindi a vedere aldir nella mappa del gioco aldir è un comandante elfico lo troviamo tra i tier 1 della fazione del bene e lo possiamo sbloccare fornendogli il pan di via e la birra scura questi sono i suoi titoli in generale adesso andiamo a vederli nello specifico da r0 ad r2 aldir possiede due titoli guida e pattugliatore di lorien il titolo guida fornisce un buff del 45 per cento sui danni a tutte le truppe alleate nei primi due round di gioco oltre a se lo portiamo al massimo fornisce anche un'immunità allo stordimento a tutte le nostre truppe un titolo veramente molto utile che praticamente verrà utilizzato con ogni build che si farà con lui i grandi abilità di questo titolo sono lungimiranza un bonus alla possibilità di ignorare lo status di schivata del nemico e scorta armata un'abilità di attacco che aiuta anche la cura delle nostre truppe il secondo titolo da rispetto 0 a 2 è pattugliatore di lorien un'abilità di danno che permette alle nostre truppe di schivare i danni successivi i rami abilità sono elite che fornisce un buff alla concentrazione alla forza e eliminazione dei deboli un'abilità di attacco che può fare un 210 per cento di danni fisici quando viene portata a livello massimo a rispetto 3 sblocchiamo il titolo elfo silvano che aumenta i danni fisici e i danni da veleno che il nostro comandante fa mentre come rami abilità qua troviamo rami abilità più importante all'interno di tutte le sfaccettature di aldir ovvero addestramento delle bestie che ci fornisce un recupero del 100 per cento della vita delle bestie per ogni round un titolo un'abilità scusate veramente molto utile che praticamente viene utilizzata in ogni build possibile la seconda il secondo ramo è agilità della foresta che portato a livello massimo fornisce un 20 per cento di possibilità alle truppe a distanza di attaccare due volte per round il titolo di rispetto 5 è galadrim una buff per le abilità di per le unità a distanza del 18 per cento che dipende dalla statistica velocità quindi più è alta la statistica velocità più il buff sarà sostanzioso i rami abilità sono fortifica dove nella fase di difesa verranno fornite alle truppe un debuff al danno che subiscono e addestramento protettivo ovvero un debuff ai danni subiti per le unità a distanza passiamo ora a vedere la build possibile per aldir a rispetto 0 2 a rispetto 0 2 aldir purtroppo non ha molte possibilità ma andremo a sbloccare con 15 punti il titolo guida con 7 punti nell'abilità di cura con 15 punti su pattugliatore con 7 punti sull'abilità di potenziamento della forza della concentrazione con 7 punti sulla possibilità di annullare lo status di schivata e con i restanti punti sull'attacco del titolo pattugliatore di lorien ora andremo a vedere la build possibile quando sblocchiamo aldir ad r3 e r4 ad r3 aldir sblocca il titolo elfo silvano quindi maggiori danni da veleno e fisici ma la cosa più importante è proprio l'abilità che cura le bestie dunque da r3 ad r4 noi andremo a mettere 15 punti su elfo silvano 7 punti sull'abilità delle bestie 7 punti sulla possibilità delle truppe a distanza di attaccare due volte 15 punti su guida i restanti punti io consiglio di metterli se ci troviamo contro delle fazioni che non utilizzano comandanti nemici comandanti cattivi come si può vedere un kamul che aumenta la possibilità di schivata delle truppe o se non andiamo contro delle fazioni che utilizzano tanto spesso gli arciari elfici io consiglio vivamente di non utilizzare fin da subito l'abilità della schivata ma preferirei utilizzare l'abilità della cura aumentando così le truppe che rimarranno sul campo di battaglia per più tempo poi una volta portata a 7 l'abilità di cura metteremo i due punti restanti anche sull'abilità anti schivata l'importante è mettere come nei livelli rispetto precedente i 15 punti su guida dato che una volta portata al massimo ci darà un'immunità allo stordimento a tutte le nostre truppe passiamo ora all'abilità anzi alla build possibile con aldir da r5 in su da r5 sblocchiamo il titolo galadrim ovvero un importante buff alle nostre truppe a distanza e di conseguenza la build possibile con lui diventa tra virgolette una sola quella che consiglio perlomeno è 15 punti sul titolo galadrim 15 punti su guida 14 punti su elfo silvano 7 punti successivi verranno alloccati alla cura delle bestie ora a dipendenza dello status dei vostri comandanti quindi se se aldir è il vostro comandante principale io vi consiglio di utilizzare al posto dell'abilità che ho messo io fortifica vi consiglio di utilizzare l'abilità addestramento protettivo visto che se lui è il vostro comandante principale lo utilizzerete di più per attaccare che stazionario su una zona in caso contrario io vi consiglio di utilizzarlo come comandante secondario e quindi di mettere 7 punti sull'abilità fortifica quindi una riduzione del danno subito quando si viene attaccati e i restanti punti se ne avete la possibilità di sbloccare la possibilità di attaccare due volte del vostro esercito quindi l'abilità agilità della foresta nel titolo elfo silvano l'importante è non maxare subito elfo silvano dato che non ci servirà al massimo perché non ci fornisce un buff molto particolare come invece ce lo dà galadrim e come ce lo dà guida l'importante è proprio mettere i 15 punti su guida difatti io quando porterò aldir a livello 50 rialloccherò tutti quanti i punti per avere 15 punti su guida 14 su elfo silvano 15 su galadrim 7 sulla cura delle bestie 7 su fortifica dato che io lo utilizzerò principalmente come comandante da difesa o secondario siamo ora al tipo di statistiche il tipo di equipaggiamento che aldir deve tra virgolette avere ad aldir a dipendenza del livello di rispetto va da rispetto 5 in poi prediletto un equipaggiamento che gli fornisce velocità mentre se siamo ad un livello rispetto che va dall'uno dallo zero fino al 4 andremo a dargli equipaggiamento che gli buffano la forza e la concentrazione prediligendo la concentrazione quindi nelle armi andremo a cercare un arco del bosco atro dal livello rispetto 5 in su mentre dal livello rispetto 4 in giù cercheremo comunque un arco del bosco atro dato che aumenta l'attacco dell'esercito a distanza per le armature dovremo cercare un'armatura come la pelle del cacciatore visto che fornisce anche la velocità del comandante oltre che ha una buona difesa dell'esercito a distanza mentre dal livello rispetto 5 in su cercheremo una corazza che fornisce velocità come una corazza del ricognitore come elmo andremo a prediligere un elmo come l'elmo degli elfi alti che fornisce difesa agli elfi e velocità del comandante oppure ancora meglio un cappuccio del cacciatore che ci fornisce concentrazione velocità del comandante ma soprattutto attacco esercito a distanza come accessorio purtroppo io non ne ho molti per poterveli mostrare ma andremo a prediligere una cintura di lotlorian dato che ci fornisce velocità del comandante concentrazione e velocità esercito a distanza le abilità secondarie come forza degli elfi sono da prediligere ad abilità di resistenza all'attacchi o ad altro l'importante è aumentare i danni inflitti dalle unità di aldier per il video di oggi è tutto io vi ricordo di iscrivervi al canale mettere mi piace al video se vi è piaciuto lasciare un commento con qualcosa che mi chiedete se volete dei video più un particolare un comandante in specifico insomma potete commentare con quello che volete anche non so criticare sono bene accette le critiche costruttive quindi per il video di oggi è tutto io vi invito anche a condividerlo ciao ragazzi